Era da un po' che non facevo un bel video di questo tipo, oggi parliamo della futura WWDC Allora, partirei dalla parte un attimo più semplice da gestire, software Allora, partiamo da iPadOS 17, così mi tolgo subito quella parte che boh, io non so cosa dire di iPadOS 17 Sappiamo poco, fortunatamente, non abbiamo altre aspettative, fortunatamente Speriamo meglio il Finder? Sì, succederà? No, dovrebbero arrivare una sola cosa, siamo sicuri, perché lo fanno ogni anno Quello che arriva sull'iPhone l'anno prima arriva sull'iPad, quindi la lock screen La lock screen, lo sappiamo, arriverà nuova sull'iPad Per il resto è tutto un grandissimo, ma è arrivato Final Cut pochi giorni fa Quindi dubito che arrivi qualcosa che sia una svolta per i professionisti Cioè, se no mi presenterebbe anche Final Cut alla WWDC Spero di essere smentito, spero di vedere qualcosa di interessante per i professionisti Ma non lo so, non lo voglio sapere Passiamo invece alle cose interessanti Se si possono definire interessanti IOS Dovremmo avere, intanto, una lock screen per la casa Quindi tipo, per quando lasci in carica Apposta, ci dovrebbe essere quella in orizzontale Dovrebbe riuscire anche il coso che ti fa nell'iPhone con il MagSafe In carica in orizzontale E tu hai una tutta una smart... Una smart... Una lock screen apposta Per... Vedete, in mente, la vedete a schermo? Un control center ridisegnato Non del tutto, come succede da iOS 10 e iOS 11 Una cosa più leggera Sarebbe anche il momento Ma non ne sento il bisogno così alto Per me va già bene Potrebbero solo aggiungere un attimo di cose E farti decidere in che ordine mettere il tour Sempre parlando di widget I widget interattivi Anzi, io posengo iPhone 14 Pro Max E... Mi fa molto comodo molte volte Se... Quando ho della musica in riproduzione Piggio sopra E posso decidere a che punto la canzone andare Skippare Ecco Sarebbe bello per la musica Per un widget apposta dedicato E altri widget interattivi Quindi con cui io posso comunicare Si dice da iOS 14 Sono passati tre anni Quo... Sono alla quarta WWDC con i widget La mia prima WWDC O la video in 2020 fu proprio quella E... Sempre parlando di Dynamic Island Nuove feature per la Dynamic Island Io ne sto leggendo, eh Dovrebbero arrivare anche delle nuove app Come l'app Journaling Non so come si chiamare in italiano Quindi una serie di cose come Le entrate Il mood Che hai fatto Un po' di cose del genere Ci sta Secondo me non è del tutto sbagliata come idea Io la sto leggendo qui molto veloce Vediamo come anche la sviluppano loro Perché poi c'è sempre tanto Nuove app Sempre anche disegnate come Wallet O l'app musica Ci sta Ci sta Musica io non la uso Però ha dei problemi Per quanto l'ho usata Perché l'ho usata per un annetto buono E ha dei problemi Che si possono migliorare Tranquillamente Quindi ci sta Il nuovo CarPlay Che non ne si dice Ma io non ne vedo il senso Perché alla fine È stato aggiornato proprio lo scorso anno È arrivato su poche macchine Magari più disponibilità Per il nuovo CarPlay Una cosa che mi ha fatto L'ultima cosa Che si dice proprio davvero È che potrebbe Essere aperta La disponibilità Di store App store Esterni Cosa non proprio sicura Per il nostro iPhone Io non mi trovo Non mi trovo A favore di questa cosa Però Tant'è un'epoca Come sa Anche con l'esempio Di Epic Games E Fortnite Va bene Sempre stando sul software Dovremmo avere WatchOS 10 Una versione Nuova La decima versione Che dovrebbe Rivoluzionare Quella che è L'utilizzo dell'Apple Watch Usando dei widget Rendendolo più interattivo Anche nella schermata home E avvicinando Quella che è la Home Dove delle app Alle watch faces Riendendole più vicine E comunicabili Arriverà TVOS Ma non lo so Spero che arrivi in un browser Ma ormai C'ho perso le speranze MacOS 14 Al più sto ancora Usando il wallpaper Di Bixar Come se qualcuno Potesse interessare MacOS 14 Che io spero Soprattutto in un bug fix Ma è troppo Baggata Questa versione È davvero Troppo Baggata Io spero Arrivi qualcosa Che mi faccia dire Sì Finalmente Mi hanno sistemato Questo cazzo Di MacOS Si bagga anche su cose Proprio basilari Mi ero dimenticato Mi ero dimenticato due cose Per Per iOS Una delle nuove Lockscreen Aggiornamento Lockscreen E System Accessibilità Più accessibile Tipo per gli anziani Per i bambini Quelle modalità Un po' Labrondi Con le icone giganti Quell'arma là E Per altre cose Vi lascio Degli articoli Vi lascio Due articoli Qui sotto Per magari Delle piccole cose Che non ho detto Ma perché davvero Piccole Parlando invece Di disponibilità Di questi software WatchOS Da Apple Watch Serie 4 Speriamo Né troppo Né prima Né dopo Apple Watch Serie 4 È sempre stato Per me Apple Watch Perfetto Quindi Apple Watch Serie 4 Ancora perfetto iPhone Da iPhone 10 O iPhone 8 Non lo so Spero comunque Mantengono Le anziani 2017 Quindi non mi siamo sicuri Sul Mac È sempre più Una questione Di annate Dipende Da prodotto Prodotto Non mi ci sto A soffermare E su iPad Dal 2017 Quindi dovrebbero Escrivere anche I primi iPad Pro Passiamo invece Alla parte Interessante Avremo Quest'anno Teoricamente Ben 3 Prodotti Hardware Del Mac Pro Non si sa Ancora nulla Ma abbiamo comunque Due Mac Che non si sa Se sarà uno Dei due Il sostituto Del Mac Pro Il Mac Studio Di seconda generazione Con un M2 Ultra E un M2 Ultra Se esce un Mac Pro E comunque Sarà quello Il nome Di un Possibile Processore Più potente Di un M2 Ultra Questa cosa Mi panica Io non ci credo A un nuovo Mac Studio Già dopo un anno E mezzo Per un prodotto Così tanto potente Ma È quello che si dice Io Non ci tendo A credere Così tanto Ma vedremo Poi MacBook Air Da 15 pollici Ci speravamo Da tanto E finalmente Lo avremo Un MacBook Air Più grosso Finalmente Sarà un gran Gran prodotto Sicuramente Il prezzo Qui in Italia I prezzi Sono sempre Stati una cosa Stono Ultimamente Una cosa Disarmante Fra tassi Inflazioni Qualsiasi cosa Ho paura Del prezzo Di questo computer Che potrebbe partire Già dai 2000 euro E per un computer Professionale Cioè Per un computer Che il MacBook Air Non è un computer Professionale Anche con 15 pollici Non lo è Con un M2 base Un po' Mi Non lo comprerei Un computer Del genere A 2000 euro Però Se qualcuno Lo compre Ben per lui Sicuramente Sarà un grandissimo Prodotto E poi Il terzo prodotto Ha fincato Anche un nuovo software Io mi sento male Perché io Non ce la faccio È una cosa Che ancora Non concebisco Che non avrà senso Almeno per la prima versione Sarà una vera beta Per un prodotto Che verrà Più di 3000 euro 3000 euro Assicurati Apple VR Apple Reality Però Vediamo come si chiamerà Un visore Realtà aumentata Realtà virtuale Avrà un sacco C'era 4k 8k Non si sa Uno schermo Assurdo Avrà un sacco Di funzioni Ma non mi ci voglio Soffermare Perché tutti Dicono che esce Io non ne sono Così tanto sicuro Ne parleremo In caso Nel video post Da WWDC Che esce Questa sera Per voi Per me Domani sera Manca fare I video post Evento Apple Da una vita Che non ci sono Eventi Apple E da settembre Apple Mi mancano Negli eventi E cos'altro Posso dire Spero non esca Intanto Dovrebbe uscire Con XROS Nuovo software Quindi che apriano Agli sviluppatori Anche su Xcode C'è una funzione Che ti dice Tipo VROS XROS Non è ancora disponibile Sarà disponibile 38 Per gli sviluppatori Quindi Prendi È confermato Sto visore Non lo so Io Ho molti dubbi Su questo prodotto Quindi questo Era un video Molto veloce Molto 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 veloce Su quello che vedremo A questa WWDC Teoricamente Boh A me Per me La WWDC È sempre stata Software E per me Dovrebbe rimanere tale Tutto questo hardware Che toglie anche Un po' L'attenzione dal software Non lo vedevo necessario Però per Apple Lo è Quindi Lasciamogli fare Queste cose Io sono un po' Sterrefatto Un po' Boh Vediamo come sarà Questo evento Sicuramente Non saremo delusi Con tutto quello che avremo Almeno Non ci sia un fiasco totale Quindi signori Ci vediamo stasera Mamma mia Cosa mi tocca fare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti